Ciao, oggi è di una fede inalienabile, di una fede non religiosa che ti parlo, per dirti che la fede, che tutto, quello che tu desideri, la fede che sta succedendo la miglior cosa per te, la fede che dove vuoi arrivare, sei già arrivato, quella fede è importantissima perché lo vivo ogni giorno, gli esempi non servono, il mio messaggio che deve toccare la tua parte animica, la tua anima, la tua essenza, perciò gli esempi li utilizzo con parsimonia perché non sono sempre utili, ci distolgono anzi spesso dalla nostra singolarità, dalla nostra particolare indole, dalla nostra specializzazione, siamo ognuno specializzati in qualcosa bene, allora, con fede, alzati domani mattina, con fede, vai a dormire questa sera, con fede che è già tutto lì, e che stai facendo la miglior cosa per te, in questo momento, ad ogni momento, e così lo hai fatto sempre, ogni istante della tua vita, penso che dopo questo cambia un po', la nostra vita, il sole oggi è meraviglioso, questa piantina diventerà un albero gigante, è una piantina di alloro, ha sopravvissuto all'inverno, ha ricevuto poca acqua, eppure, come potete vedere, è cresciuta un'altra piantina qua vicino, chi lo sa se sarà anche lei è una piantina di alloro, comunque a me questa piantina piace molto, molto, come piace anche questo bellissimo sole, allora, su questa vita che scorre costantemente, noi siamo qui, noi viaggiamo ogni giorno, e questo ve lo voglio ricordare oggi, siamo sempre in movimento, e la terra che ci ospita, è pure lei in movimento, allora, io vi saluto con questo mio sorriso, che vuole essere l'augurio per ognuno di voi, di sorridere ed abbracciare la vita con la fede, che è tutto perfetto, ad ogni istante, pariamo ad abbracciare la gioia come ad abbracciare la tristezza, perché tutto, se esiste, è degno di essere amato, una hug gigantissimo oggi, con un grandissimo sorriso, per un giorno che verrà, che già sta preparando il prossimo, un abbracciare la tristezza, ciao!